Antifascista, deportato a Buchenwald, dirigente clandestino del Partito Comunista Spagnolo e soprattutto scrittore. Jorg Semprun, morto a Parigi all'età di 87 anni, per tutta la sua lunga vita è stato un esempio di intellettuale europeo. Nato a Madrid nel 1923 e presto costretto ad abbandonare il paese, Semprun si è sempre descritto come un europeo nello spirito. Ai giovani in Europa offriamo cose che gli interessano molto, come il programma Erasmus, gli scambi a livello universitario, i viaggi. Però ci si ferma alle cose pratiche, alle cose quotidiane. Non offriamo loro un progetto comune e globale che spieghi cosa sia l'Europa, che funzione abbia, a cosa serva. In definitiva, offrire non solo i viaggi di Erasmus, ma anche qualcosa di più, ecco cosa serve. Semprun fu internato dai nazisti a Buchenwald a causa del suo impegno politico nel partito comunista clandestino, ma nel PCE restò fino al 1964, quando venne espulso dalla leadership staliniana per deviazionismo. Ministro della cultura spagnolo dal 1988 al 1991, Semprun lasciò l'incarico per non imbarazzare, con le sue uscite poco ortodosse, l'intero governo. Di rilevo le sue incursioni nel cinema, con le sceneggiature di diversi film di Costa Gavras, tra i quali il celebre Zeta, l'orgia del potere.